Amici sportivi di Montedeprocita.com, buonasera, siamo in compagnia del coach dello Scafadi, di Monteleone. Allora coach, impresa dello Scafadi che porta di nuovo Monti a gara 3. Sì, ci abbiamo creduto, i ragazzi sono stati veramente in gamba stasera, ci hanno creduto, volevano vincere e l'hanno vinta. Monti è una signora squadra attrezzatissima, abbiamo fatto il possibile e ci siamo riusciti. Se continuiamo con questa intensità che abbiamo messo stasera, andiamo lì a giocarci, non abbiamo nulla da perdere noi. Coach, domenica scorsa siete venuti a Monti, avete perso i 10, comunque con un'ottima prestazione. Forse oggi qualche decisione arbitrale, consentitemelo di dire, forse ha stato un po' più casalingo. Insomma, non mi trovi d'accordo, ma non perché. Mi è stato fischiato un tecnico, a me... Vabbè, comunque non parliamo degli arbitri, non amo parlare degli arbitri, fanno parte della partita, fanno parte della gara, quindi non ci sono problemi, fanno parte del gioco, quindi dobbiamo stare alle loro decisioni, accettandole alla fine, perché alla fine senza di loro non giocheremo. Grazie, Coach, e in bocca al lupo per domenica. Siamo accompagnati Valerio Traffa, l'infortunato e il gruppo Virtus. Allora Valerio, hai visto la partita dall'esterno? Due parole sul match. Due parole sul match. Io penso che abbiamo fatto tutto noi, noi siamo artifici del nostro cammino, del nostro destino. Li abbiamo fatti stare in partita e fare quello che volevano. In difesa non siamo andati un granché, perché loro sono una squadra che di solito fa 60 punti, anche stasera è arrivata a 80 punti. E beh, fuori casa se non ne fai più di 80 non la vince la partita. Quindi dobbiamo stare più attenti, loro sono questi, senza lodo e senza infame, sono arrivati alla terza partita come circola, però dobbiamo riprenderci. Stasera eravamo un po' rimaneggiati, però sono fiducioso per la partita di domenica. Ecco, le tue condizioni fisiche? Le mie condizioni fisiche le dobbiamo valutare giorno per giorno. Miglioro giorno per giorno, però non posso fare pronostici per il rientro. Posso dirti di giocare come non posso giocare. Ancora adesso non siamo convinti. Allora facciamo un attimo un in bocca al lupo a te personalmente e alla Virtus e diamo appuntamento domenica ai tifosi della Virtus. Crepi, ci vediamo domenica, venite in tanti che venderemo cara la pelle. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.